Bentornati carissimi amici, briciole di storia. Oggi vi stupisce, professore? Un lettino per bamboli! Un lettino per bamboli. Allora, purtroppo l'ho scritto nel titolo. Quindi la mia stupidata è doppia. No, ma se no li avrei lasciato qualche secondo per capire che cos'è. Allora, questo è segno del tempo. Cioè, ci sono alcune cose che hanno segnato il tempo, tipo il porta sigarette da tavolo. Sì. Quindi il kit fumo. Cioè, delle cose che erano simboliche di un certo periodo. Come le zuccheriere, le zuppiere, le ravioliere. Cioè, tutte cose che oggi non esistono più. La zuccheriera forse un pochettino ancora. Ma questo è un porta grissini. È bello. È proprio bello. È che non si usa più. Tutto il più si usano quelli negli ristoranti, quelli a bicchiere grandi. Esatto. È cambiata quantomeno la forma. Ora, i grissini si mettono verticalmente. Allora si depositavano liberi. Si metteva un tovagliolino, probabilmente tagliato a misura. Ricamato. Ricamato. Non faccia così. È un segno del tempo. E poi, abilmente, abilmente, lo portava, lo collocava dicendo prego a voi i grissini. Probabilmente erano i grissini, non so, dal mulino bianco, quelli torinesi. Nemmeno i momenti più tristi delle nonne avevano questa roba qui del tovagliolino bianco nella grissiniera. Non lo so, porta grissini. Però io ricordo, perché questo video ricordo di averlo visto in casa, e negli aperitivi c'erano, forse li abbiamo anche fatti, quelle composizioni piccoline con dentro... Quelle di porcellana? No, di vetro. Oh, mamma mia. O i porcellani in cui si mettevano le cipolline. Le olive, le cipolline. Il problema è che erano grandi così. Cioè, stavano tre olive, perché probabilmente i costi erano anche più elevati. Ci stavano tipo due cipolline e tre cetriolini. Tornando a questo pezzo, è in argento? No. Non credo proprio. No, no, è in argento. Neanche peltro. No, è in... Metallo. Metallo. Benissimo, questo è... Direi in metallo, ben intagliato. È anche un oggetto, secondo me, che ai tempi, quando... Qui sono delle foglie ricamate, poteva avere il suo prezzo, eh? Nel senso, perché non era una cosa utile, era una cosa in più. Per ostentare la sera con gli amici e con gli ospiti, prego, insieme a che cosa? Perché poi il grissino ci arrotolava i suoi, e proprio il prosciutto. Wow, andiamo sul pesante. E quelle cose proprio, insieme al cocktail di scampi e, insomma, siamo un po'... Posso? Io apprezzo il tuo entusiasmo. Tuttavia, questo scolpito a mano... Questo fa migliaia di visualizzazioni. Non è scolpito a mano. Pubblicizza... È un... Questa là... Una lamirina stampata. Una lamirina stampata e poi piegata e saldata qui. Questi due qui, le testa, le due teste... Ma non sminuirlo, è l'incarico che aveva. Questo arrivava in tavola con l'incarico unico del suo genere di portare dei grissini. Un po' più lucente, un po' più... Alla sua età, poverino. Cioè, è un anzionotto. Comunque, una tristezza indicibile. Indicibile, ma segno di un tempo che non tornerà, fortunatamente. Poveri grissini, abbandonati a loro stessi in verticale oggi, vorrebbero essere sdraiati più comodamente, invece vengono posizionati in un porta... Perché quelli di oggi, fondamentalmente, sono dei portabottiglie. Sì. Portabottiglie che teneva la bottiglia in fresco, che anche quello non si usa più. Si usa un po' col bianco. Poco, poco. Ma questi erano nudi, quindi? Non erano con la loro bustina da quattro? Erano nudi. Era difficile trovare la bustina da quattro. I torinesi, appunto, alla barilla, successivamente, negli anni 70, cominciò, ma prima, secondo me, nelle famiglie borghesi, che si portavano questo qui, che era la ravioliera, per le cose lì, per questo si metteva il tappetino dentro, il ricamato, e sopra hanno depositati dei glissini di varia natura, magari addirittura fatti in casa. Riconosco la bellezza. Ok. La bellezza... Quando uno vede la bellezza, deve apprezzare. Riconosco. E l'inutilità. Però tutto il resto... Va bene, a parte gli scherzi, sono tutte cose che sono girate, che hanno circolato, e che, come molti altri oggetti, sono scomparsi, fondamentalmente. E questo è uno dei sensi, anche, che ha Briciole di Storia. Anche questo ho trovato in cantina? Sì, da me, stavolta. E quindi, chiudiamo qui, credo che 4 minuti sia sufficiente. Anche troppi. Vi salutiamo e ci vediamo. Al prossimo video. Ciao.